Buona serata e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi ci concentreremo su un tema particolare, quello dell'emergenza abitativa, che è una delle sfide forse più importanti e anche delle più rischiose, potremmo dire così, per le varie regioni e per il nostro Paese, anche perché la crisi economica negli ultimi anni ha evidentemente incentivato proprio il problema del disagio abitativo. Ne parleremo con Luca Talluri, che saluto e ringrazio, buonasera, presidente di Casa Spa Firenze, di FederCasa, anche perché circa un mese fa, un mesetto e mezzo fa, è stato presentato il terzo rapporto sull'emergenza abitativa in Toscana, che ha disegnato un quadro anche per la nostra regione, non dei più rosei. Ora ne parleremo di questo, intanto però le chiedo qual è la situazione della Toscana a livello italiano. Questo discorso dell'emergenza abitativa, quante persone sono in disagio abitativo in Italia? È un problema che effettivamente affligge una grossa parte della nostra popolazione? Noi come FederCasa ci siamo posti di dimensionare questo tema, perché molti ne parlavano tirando fuori numeri che non erano però chiari. Abbiamo dato un incarico a Nomisma, il 17 di marzo presenteremo a Palazzo Chigi il risultato dello studio fatto sulla base dei dati della Banca d'Italia, quindi un dato oggettivo e fatto da un centro studi assolutamente autorevole. Quello che sta emergendo è molto chiaro, noi stiamo tornando agli anni 70 in termini di disagio abitativo, siamo a numeri che superano il milione e mezzo di nuclei in disagio abitativo e questo ci indica che per tornare ai numeri degli anni 90, quando sono state fatte le scelte più importanti sul sistema dell'ERP e delle case popolari, ci vorrà almeno 20 anni, sperando che non si inneschi un'altra crisi economica. I dati che ha dato questi due o tre numeri sono già abbastanza ghiaccianti di per sé, perché pensare a un milione e mezzo di persone che pagano gli affitti ma che hanno difficoltà a pagare questi affitti è effettivamente complicato, è effettivamente una cosa che dà la quota della situazione. Le chiedo questo, negli anni che cosa è cambiato? Abbiamo detto della crisi economica, ma ci sono stati altri fattori secondo lei che hanno portato ad aggravarsi della situazione? A mio avviso negli anni 90 sono state fatte le scelte più importanti che a tuttora caratterizzano il sistema dell'ERP e delle case popolari, ovvero è stata fatta la legge 560 nel 1993 che è la legge sulle vendite, che io chiamerei più sulle svendite delle case popolari, poi nel dicembre del 1998 è stata chiusa la legge di finanziamento diretto e permanente delle case popolari che era la GESCAL e dal 1 gennaio 1999, quindi un'operazione di fatto contingente, è stato regionalizzato il tema della casa, passandolo dal Ministero dei Lavori Pubblici o Infrastrutture come si chiama oggi, alle regioni come delega. Questa scelta di fatto ha cristallizzato, tendendo ad una riduzione complessiva, il sistema dell'ERP. È chiaro che questa cristallizzazione, finché il disagio abitativo reale era in numeri che in qualche modo il sistema riusciva ad assorbire più o meno bene, perché poi ovviamente il sistema dell'ERP a livello nazionale ha luci ed ombre, come è per tutti i sistemi italiani, mi verrebbe da dire. È chiaro che però alla fine la risposta al problema c'era. Era adeguata. Esatto, era adeguata. Mentre quello che sta emergendo adesso è che è esploso il problema del disagio economico e quindi di conseguenza del disagio abitativo e di conseguenza quel sistema dimensionato in quel momento storico non riesce più a rispondere a questa esigenza e quindi si ripropone, forse per la prima volta dopo 20 anni, una riflessione seria e molto grande su questo tema rispetto a quello che abbiamo visto in questi 15-20 anni, dove tutto sommato col sistema cristallizzato negli anni 90 e con il tesoretto della cosiddetta ex GESCAL che fu chiusa appunto a dicembre del 98, in qualche modo si era riuscita a tenere botta rispetto alle esigenze. In sostanza la GESCAL che gestiva appunto i fondi per la costruzione, il modernamento, immagino anche delle case popolari così, poi era stato una volta chiuso e suddiviso tra le regioni, una sorta di federalismo in quel periodo lì, era anche un periodo in cui andava di moda in modo particolare, ma le chiedo questo, oggi le regioni che situazioni hanno? C'è la possibilità di reinvestire, di gettare nuovi soldi anche per la costruzione di nuove case, che poi ci arriveremo anche nel corso della nostra discussione, ma è un po' questo l'obiettivo che ci si pone, perché poi le domande sono tante, le regioni oggi hanno questa forza o secondo lei il sistema potrebbe tornare invece ad essere statale? A mio avviso il sistema potrebbe tranquillamente tornare ad essere statale, perché questo tipo di problema è analogo in tutta Italia senza grandi differenziazioni, certo è che questa modifica prevede una modifica costituzionale del titolo V, quindi è un processo complesso, complicato, che ha tempi lunghi, si può trovare soluzioni intermedie nel frattempo appunto che il sistema torna ad essere nazionale, ovvero lo Stato centrale può porsi questo problema come un problema da risolvere in termini anche di priorità politiche, mettendoci dei soldi e magari facendo una legge quadro per le regioni, devo dire che il governo attuale anche su nostra indicazione nel 2015 ha scelto di rimettere per la prima volta dopo molti anni un po' di soldi veri sul tema delle case popolari, infatti erano stati previsti 470 milioni di Euro per fare la ristrutturazione degli alloggi esistenti su 10 anni fino al 2024 con la legge Lupi, la legge 80 del 2014, con la legge di stabilità fatta tra novembre e dicembre del 2015 e quindi votate attualmente in essere quella del 2016, è stato scelto di prendere questi soldi e anticiparli su un biegno il 2016 e il 2017, quindi la scelta da noi indicata e che il governo ha recepito è stata quella di provare ad aprire una finestra temporale nella quale noi recuperiamo tutti gli alloggi di risulta che ci sono adesso in questi 18-24 mesi, lo spieghiamo per chi non lo sa, sono quegli alloggi che vengono lasciati, insomma non sono più inquilini ma che devono essere rimessi a posto, no? Esatto, esatto, fisiologicamente il sistema ha un certo numero di alloggi che vengono appunto abbandonati e che devono essere rimessi appunto in uso ma che hanno bisogno di una manutenzione talvolta leggera, fino a 15 mila Euro di intervento sulla rimbiancatura, sull'impianto elettrico, sull'impianto termico sanitario, talvolta hanno bisogno di interventi più considerevoli per essere utilizzati perché bisogna intervenire sull'aspetto strutturale. Chiaramente questo non vuol dire dare una risposta al problema del disagio abitativo, neanche lontanamente è una goccia nel mare, però è una goccia significativa che nei 18-24 mesi si sente e quindi contestualmente fa due operazioni, la prima appunto quella di mettere qualcosa di concreto a disposizione, si recupera un po' di alloggi. Contestualmente nel frattempo apriamo una finestra temporale, un polmone temporale che permette di fare uno studio centrato sulla questione strutturale, perché l'esigenza è trovare a questo punto una risposta strutturale ad un problema che ha assunto una dimensione appunto da anni 70. Senta, volevo chiederle questa cosa, intanto quali sono i numeri anche dell'emergenza abitativa, del disagio abitativo in Toscana e quanto sono gli alloggi di risulta, perché è vero naturalmente che ogni alloggio in più in questo senso è una mano in più, però poi le domande sono anche tante. Sì, in Toscana noi abbiamo depositate presso i comuni e come dire accettate, quindi gente che sono in graduatoria, che avrebbero secondo la legge Toscana diritto ad una casa popolare circa 25.400 domande, quindi nuclei familiari, poi possono essere nuclei di singoli o di famiglie numerose, ma insomma di fatto sono oltre 25.000 nuclei familiari che hanno depositato domanda. Se si ipotizza ragionevolmente, anche con un po' di buonsenso, che ci possono essere anche nuclei familiari che non l'hanno presentata la domanda, ma probabilmente ci rientrerebbero tranquillamente in quei parametri, diciamo da casa popolare, da accesso ad una casa popolare, io penso che possa essere ipotizzabile almeno 30.000 alloggi necessari in più ai 49.000 attuali da costruire in più per rispondere a questa esigenza che sta sul tappeto. In questo senso la richiesta o comunque la strada, qual è la strada per dare una risposta a queste persone? Costruirli evidentemente questi alloggi? A mio avviso sì, a mio avviso è fare una scelta politica di priorità, perché dire che non ci sono i soldi è una verità parziale, i soldi non è che non ci sono, i soldi ci sono e bisogna scegliere, così come si fa a casa nostra in famiglia, con il budget, quali sono le priorità e le priorità cambiano anche in termini storici nel tempo. Quella di oggi è chiaramente una priorità, quella del disagio abitativo, magari negli ultimi 15-20 anni lo era meno perché ricordiamoci che negli anni 90 noi abbiamo vissuto un periodo di bacche grasse di boom economico, ce lo ricordiamo tutti, ce l'avamo tutti, dopodiché l'economia ha avuto il corso che ha avuto, soprattutto nel mondo occidentale e in particolar modo in Italia, noi oggi ci ritroviamo una fotografia dell'Italia completamente diversa da allora e con esigenze completamente diverse, probabilmente oggi il tema della casa è più importante, quindi prioritario rispetto al trasporto pubblico locale, per fare un esempio. Tra l'altro, notizia di oggi, ufficialmente in finezza, il trasporto pubblico locale va in mano alla ratepe francese, le autolinee toscane, questo è non giusto per dare una notizia in più. Allora, vediamo quelli che sono i numeri di questo rapporto sull'emergenza abitativa in Toscana, che tra l'altro ha messo al tavolo, oltre naturalmente alla regione toscana e a FederCasa, ha messo al tavolo anche di inquilini, ha messo al tavolo anche il presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni, insomma, tante le personalità che si sono unite intorno al tavolo per studiare questo rapporto, che però, come abbiamo detto in apertura, insomma, ha numeri abbastanza importanti. Sentiamoli. In Toscana, nel corso dell'anno 2014, il mercato della casa è tornato, seppur con lentezza, a crescere. Le famiglie che vivono in alloggi di edilizia residenziale pubblica sono circa 47.000 e rappresentano il 18,3% del totale delle famiglie che vivono in affitto. Sono questi alcuni dei dati che emergono dal quarto rapporto sulla condizione abitativa in Toscana. Nella nostra regione risulta un alloggio di edilizia residenziale pubblica ogni 33 famiglie, contro le 35 della media nazionale. Per quanto riguarda la richiesta di case popolari, si parla complessivamente di più di 29.000 domande, con circa l'86% che viene ammessa alla graduatoria. Nel 2014, poi, sono state effettuate 1.404 assegnazioni, con circa l'80,3% di alloggi rigenerati. Particolarmente pressante sembra essere l'assegnazione per emergenza abitativa a Firenze e Livorno, città che fanno registrare rispettivamente il 32,9% e il 31,6%. Uno dei temi principali della diatriba politica ruota intorno alla quota di stranieri all'interno degli alloggi popolari. Secondo Francesco Torselli, capogruppo Fratelli d'Italia in Palazzo Vecchio, il calcolo finora rappresentato dagli enti preposti, che raccontava di un 15% di stranieri, è da considerarsi inesatto dal momento che prende in esame anche situazioni pergresse di 20 o 30 anni. Secondo il consigliere, attualmente, gli stranieri che ricevono in assegnazione una casa dal comune sono addirittura il 50%. La Regione Toscana ha approvato, a marzo dello scorso anno, una nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica, garantendo parametri piuttosto rigorosi. Radicamento territoriale da almeno 5 anni e nessun possedimento nelle nazioni di provenienza, tra gli altri. Basteranno questi provvedimenti a placare le polemiche? Nel complesso, in Toscana, gli abusivi sono soltanto lo 0,5%, un dato altamente al di sotto della media nazionale, che si attesta intorno al 6,2%. Sul tema degli edifici sfitti, i sindacati CGL, Cisle e Will Toscana, coadiuvati dai sindacati degli inquilini, lanciano un allarme. Secondo le loro stime, sul territorio toscano ci sarebbero circa 1.900 case vuote in attesa di ristrutturazione e, pertanto, non assegnabili. Per l'osservatorio regionale, gli alloggi ERP sfitti rappresentano comunque soltanto il 3,3% del totale. Nel 33% dei casi, il motivo è riconducibile ad interventi di manutenzione in corso. Infine, da case senza abitanti ad abitanti senza più una casa, sembra essere comunque in calo il numero delle richieste di sfratto scese al 18,7%, mentre aumentano i provvedimenti, più 2,3% e, soprattutto, le esecuzioni. Ci sono tanti numeri in questa scheda di Giovanni Luca Valea, li vedremo piano piano. Intanto però volevo partire da un discorso concettuale, perché lei faceva riferimento a quella che era la situazione negli anni passati, negli anni 90 e come si è evoluta negli anni. Le chiedo anche se qualcosa che forse poteva essere fatto in quegli anni, quando magari la situazione era ancora gestibile, non è stato fatto e che oggi magari avremmo potuto trovarci una situazione diversa, anche proprio nel, e quello magari facendosi a prima degli anni 90, nel modo di costruirle queste case e nelle zone in cui sono state costruite. Perché oggi assistiamo a quelle situazioni, magari a Firenze sono piccole, perché naturalmente sono in relazione alla cittadinanza, ma che in città come Roma, Napoli, città grandi, creano veri e propri quartieri di serie B, in qualche modo dei veri e propri ghetti, potremmo definire così, dove anche la criminalità si aumenta, sono situazioni di degrado esemplari. Qualcosa che non abbiamo fatto, siamo addormentati, abbiamo dormito sugli allori, diciamo così. Sì, io penso che tu abbia ragione, è la parola giusta quella di dire che in quel periodo storico si poteva avere più attenzione. Infatti io penso che quella scelta anche di cristallizzare il sistema dell'ERPE, tendendo anche a ridurlo complessivamente come numeri con un po' di vendite, era una scelta che da un lato si rimaneva in piedi perché il disagio abitativo era controllabile in termini generali di numeri, però al tempo stesso, come dire, fu fatta per entrare nell'Euro, diciamoci la verità, non fu fatta perché ci fu una reale analisi del disagio abitativo e una politica per la casa di tipo strutturato. Io penso che la scelta di aver costruito degli interi quartieri, per esempio a Firenze, penso a Roccatedalda, da una parte e dall'altra le piagge, che nella città di Firenze ovviamente non sono dei veri e propri quartieri, ma sono, come dire, porzioni di quartiere, sono delle lottizzazioni. Se si pensa a queste due aree nella città di Firenze e si pensa a quanto possano essere equivalenti nelle città, come dicevi tu, di Napoli, Roma, Milano, è chiaro che si è creato dei ghetti dove la marginalità assume una pericolosità, perché se fino a ieri storicamente, negli oltre cent'anni di esistenza del tema dell'edilizia sociale, chi abitava in questo tipo di edifici e quartieri, poteva subire la marginalità in termini sociali, economici e culturali, ed è tanta roba, ora si aggiunge anche il tema della sicurezza, perché in Italia noi abbiamo vissuto questo tema in funzione delle mafie che in alcune parti del nostro territorio nazionale, in primis nelle città del Meridione, hanno una presenza rilevante in quel tipo di quartieri, però di fatto era un tipo di criminalità reale, esistente, ma che non metteva in discussione per esempio la sicurezza generale. I fatti di Parigi, in maniera eclatante, ma anche di Bruxelles, di Amsterdam ci dicono invece che questi quartieri di marginalità diventano i luoghi dove più facilmente attecchisce anche il potenziale rischio di messa in sicurezza del Paese. E quindi il terrorismo e anche naturalmente chi si avvicina a posizioni estreme, in quel caso si riferiva a lei nel mondo islamico, ma quindi questo è un problema reale, perché nella scheda c'era anche il discorso che ha avanzato Torselli, lo affrontiamo subito, anche se abbiamo un paio di minuti, ma si può fare questo ragionamento, perché Torselli ha sollevato questa questione, si è sempre detto che almeno per quanto riguarda Firenze c'è il 15% degli stranieri nelle case popolari, quindi l'85% va agli italiani, ma si fa il conteggio sulle case popolari, la situazione attuale considerando tutto il patrimonio abitativo. Se si guarda però, dice Torselli, le ultime liste di attesa che ci sono per i richiedenti delle case popolari, si arriva al 50% di richieste e poi di case che vengono date ai stranieri. i dati sono giusti tutti e due, quando uno dice il 15% è un tema di strumentalizzazione politica, bisogna essere onesti intellettualmente, bisogna essere seri mi verrebbe da dire, perché altrimenti si rischia di ingenerare nella popolazione che ascolta informazioni false. è chiaro che se io penso a un milione di case popolari presenti in tutta Italia, le 750 mila gestite dalle Ate, le 250 mila gestite dai comuni in maniera diretta e fanno una milionata in totale, su un milione di case popolari io ho realmente più dell'85% di inquilini che sono italiani, è un dato, è un fatto, quindi se uno dice la maggior parte degli inquilini delle case popolari è straniero, dice un falso, perché è così, c'è un milione di case popolari e l'85%, anzi l'87% di inquilini che sono italiani. Se poi uno mi dice che negli ultimi 7-8 anni delle case consegnate, la maggior parte o come dire circa in Toscana il 50% delle case consegnate negli ultimi 7-8 anni è stata consegnata a stranieri, questa è un'altra verità, infatti complessivamente abbiamo un 13% in Italia di case popolari consegnate a stranieri che probabilmente è un 13% che si è sviluppato negli ultimi 7-8 anni. Poi Torselli dice che siccome gli stranieri in Italia non sono il 50% non si capisce perché, ma questa è una questione politica, naturalmente qui c'è un… Mi sembra una strumentalizzazione politica. È una riflessione politica di Torselli, strettamente di Torselli. Allora ci fermiamo per questa prima parte, nella seconda torneremo per capire anche come vanno costruite questi casi, non soltanto quante, ma anche come, perché anche questo è un tema particolarmente importante e insomma quali possono essere le soluzioni anche su una questione di emergenza, che è quella abitativa, che naturalmente derivano da un'emergenza economica che si è vissuta in questi tempi, che si riflette anche sugli sfratti che naturalmente sono aumentati di pari passo, ma questo è direttamente proporzionale al discorso che facevamo poco anzi. Allora, torniamo tra 5 minuti, restate con noi. Ben tornati in studio. Allora, parlando di casi popolari e emergenza abitativa, voglio chiedermi una cosa, perché dalla riunione che è stata fatta in Regione si è parlato anche dell'idea di semplificare la governance, della gestione del patrimonio delle case popolari, sembra un po' il trend del periodo, tra l'altro quello di aggregare per ridurre le spese come se fosse la panacea di tutti i mali, ma è così? Beh, per quanto mi riguarda è anche un po' difficile parlare della governance, visto che io sono uno degli 11 presidenti delle aziende tuscane, anzi presiedo l'azienda anche più grande, quella di Firenze. Io penso questo, penso che non sia questo il punto, non sia questo il problema, nel senso che se ne può fare una, se ne possono fare 4, se ne possono lasciare 11, il tema della governance è secondario, ovvero va customizzato per capire qual è il livello gestionale più appropriato rispetto alle aziende, non tanto rispetto alle presidenze, può essere sia una, possono essere 4, possono essere 11. Quello che io trovo più importante è che la Regione Toscana se decide di mettere mano a una riforma del tema dell'ERP, non parta dalla governance per mettere su Facebook a settembre da parte dell'assessore, di governatore o di chiunque voti in Consiglio regionale, l'idea sono passato da 11 a 1, pensando che questo sia il tema. Il tema è un altro, il tema è che noi abbiamo 49 mila case popolari in Toscana attualmente che hanno bisogno di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e abbiamo bisogno di altri 30 mila alloggi in più da costruire per rispondere ai disagi abitativi. Quindi a mio avviso se si decide di aprire il capitolo di una riforma dell'ERP, dobbiamo porsi prima di tutto questo elemento politico sostanziale e rilevante e poi insieme anche il tema della governance che viene in autonomia. L'organizzazione, però a partire dalle 30 mila richieste, appare chiaro anche perché sono talmente tante che se si capisce sono circa 49 mila quelle attualmente in Toscana e ce ne sono 30 mila che aspettano alla porta per così dire, i numeri parlano da soli. Senta però c'è anche un tema, l'abbiamo in parte accennato prima, perché prima dicevamo sui quartieri come sono stati costruiti, i quartieri popolari nelle città, probabilmente degli errori, c'è altro modo di definirli, fatti anche in passato di visione delle costruzioni nelle città, oggi quegli errori non vanno rifatti in qualche modo, ma c'è anche un tema di come costruirle queste case, oltre a dove costruirle e quante costruirle? Sì, c'è un tema del come costruirle, io penso che intanto si devono costruire dove c'è necessità, noi storicamente, tradizionalmente negli oltre 110 anni di storia delle case popolari in tutta Italia e quindi anche nel nostro territorio toscano e in particolar modo della provincia di Firenze abbiamo costruito case popolari in tutti i comuni, perché è vero che in tutti i comuni c'è sempre un po' di esigenza di disagio abitativo, però è altrettanto vero che negli ultimi 15-20 anni il disagio abitativo ormai si è concentrato in maniera rilevante, soprattutto nei grandi centri urbani, quindi l'idea di continuare a costruire case popolari ovunque, in qualunque comune, da San Godenzo a Firenze comincia un po' a scricchiolare, dobbiamo avere l'onestà intellettuale di dire che noi si mette i soldi, che tra l'altro non sono infiniti gli soldi pubblici, dove ce n'è più bisogno, questo è il primo elemento. Quando si va a guardare queste città, quelle più grandi, le aree a forte urbanizzazione, ci si rende conto che terreni vergini non ce ne sono, quindi è evidente che nella rigenerazione urbana e nella trasformazione urbana sta il futuro anche delle case popolari come di tutto il resto dell'edilizia. Dovremo imparare anche a demolire e ricostruire, noi abbiamo tre cantieri nella città di Firenze e sono un esempio di questo, di rigenerazione urbana con demolizione e ricostruzione, anche magari aggiungendo qualche indice in più per aumentare il numero degli alloggi, ne demolisco per esempio 60-64 in via di Torre degli Agli e ne costruisco più di 90 nella stessa zona. Poi c'è il tema... Non c'è bisogno di sottrarre suolo per forza? No, non c'è bisogno di sottrarre suolo per forza, si può nella rigenerazione urbana trovare gli spazi per anche aumentare il numero di superficie utili e lorda. Contestualmente c'è una qualità edilizia, noi oggi abbiamo un'industria dell'edilizia che è in grado di costruire a circa 900-1000 euro in metro quadro in classe A, magari con rifiniture non importanti, ma da un punto di vista dell'edificio come involuro, quella parte lì che è quella più significativa e sostanziale, si riesce a costruire con cifre economiche non più altissime, quindi si può fare anche edifici di alta qualità con nuove tecnologie, abbiamo la prefabbricazione che negli anni 70-80 era sinonimo di edilizia di bassa qualità, per non dire di pessima qualità e ne abbiamo degli esempi, cito per esempio le piagge a Firenze sono un'edilizia di prefabbricazione alla francese in cemento armato che tutti siamo in grado di comprendere, anche se non siamo dei tecnici, ingegneri, architetti o geometri che sono di una qualità edilizia non eccezionale. Oggi la prefabbricazione, penso al legno, penso all'acciaio, sono strumenti di prefabbricazione che ti permettono invece di costruire con alta qualità, ad alte prestazioni energetiche. Poi dopodiché c'è la progettazione da un punto di vista dell'uso degli spazi. Noi oggi ci dobbiamo rendere conto che la lotta alla marginalità per i motivi di cui prima, come si diceva, quindi il tema non solo degli aspetti sociali e culturali, ma anche proprio della sicurezza, necessitano della progettazione di spazi che garantiscano, non dico un senso di comunità e di relazioni idilliche, che ovviamente è impossibile pretendere, neanche in un condominio privato ci sono, voglio dire, si litiga, questo è normale, però di coesione, di un minimo sindacale, di un minimo comune nominatore di rapporti civili tra inquilini, questo sì. E questo ha bisogno di spazi condominali, di spazi a comune se l'area è una lottizzazione, dove si introducono luoghi in cui non solo l'aggregazione in senso tradizionale, ma anche luoghi in cui si riesca a creare gli spazi per permettere alle nuove modalità di interrelazione tra inquilini di esserci, perché questo è un elemento centrale di lotta alla marginalità, dove c'è comunità, dove c'è senso di coesione sociale, è più difficile far attecchire sia le questioni legate alla sicurezza, ma anche le questioni più spicciole, penso per esempio al grosso tema della morosità delle spese condominali, che è vero cancro all'interno delle case popolari, più dell'amorosità sui canoni di affitto, perché è chiaro che se io non pago i canoni di affitto ho paura di essere buttato fuori anche in una casa popolare e quindi quello magari lo pago, le spese condominali invece, però le spese condominali sono quelle che ti permettono di fare la manutenzione ordinaria e il pronto intervento, che poi determina il degrado dell'edificio nel lungo tempo, quindi è evidente che quel tema lì è un tema centrale e se io vivo in un condominio dove la dimensione condominiale è quanto meno forte sotto il profilo anche del solo rispetto delle regole condominali senza andare a ricercare rapporti di amicizia, è chiaro per esempio che la morosità tende a essere bassa, dove c'è completamente disgregazione si crea anche questo tipo, quindi non c'è soltanto un tema di tipo sociale, culturale o addirittura di sicurezza, ma c'è anche un tema gestionale. Puramente poi mirato a far funzionare le cose come dovrebbero, va bene, capito che più o meno le case, l'edificio alveare come venivano costruite un tempo sono un modello fallito, voglio chiederle anche questo, per quanto riguarda il discorso degli sfratti, partendo però da un discorso che faceva prima lei, insomma un milione di persone sono una solita di bomba orologeria per uno Stato, perché se questo milione di persone vive in una condizione di disagio abitativo, dove non riesce a pagare l'affitto mese dopo mese, magari dove deve scegliere un mese di pagare l'affitto, un mese di pagare le spese medie, un mese di pagare la scuola dei figli, non lo so, sto inventando, ma insomma sono qualcosa che rischia di esplodere, quindi oltre alla pianificazione di tutto il resto, sembra che gli interventi da fare siano anche da fare in modo molto rapido, lei diceva prima in due anni questi soldi vanno spesi proprio per chiedere una risposta veloce, perché è anche un problema rischioso insomma. A mio avviso sì, noi abbiamo fatto quest'operazione come Federcasa appunto di dimensionare il disagio abitativo, la presenteremo come dicevo prima il 17 di marzo a Palazzo Chigi, proprio perché pensiamo che questo sia il momento storico per fare un giro di boa uguale e contrario a quello degli anni 90 sul tema appunto della casa, perché la storia è andata come è andata e quindi non si può rischiare diciamo di far incancrenire questo problema e portarlo ad un'esplosione plateale, già abbiamo dei segnali. A volte non se ne ha la percezione, non dico gli amministratori perché naturalmente non mi pongo nei loro panni, però anche le persone non si ha la percezione che il problema possa essere così ingente, ma questa è evidentemente una questione sociale enorme, una ferita sociale enorme per il nostro Paese insomma. Una ferita sociale enorme perché di fatto noi abbiamo non soltanto, come dire, molte persone che sono in attesa di una casa popolare perché hanno presentato domande, i numeri sono chiari, sono i 25 mila in Toscana ma sono 650 mila in Italia di persone che hanno presentato una domanda in maniera regolare per avere una casa popolare, ma ci sono tutte quelle persone come diceva lei che sono in crisi economica e di conseguenza in disagio abitativo e che vivono mese e mese questa difficoltà e che sono lì per esplodere. La magistratura rispetto al tema degli sfratti ha sempre un atteggiamento molto morbido, cerca sempre di aspettare, però questo tema del cuscinetto rispetto a tenere dentro case che sono di proprietà di privati dove non viene dato l'affitto a quella proprietà, è un cuscinetto che non può durare molto nel tempo, ecco perché a mio avviso ha fatto bene il governo a investire un po' di soldi veri in maniera significativa in questo biegno per prendersi lo spazio temporale per analizzare il problema e trovare una soluzione strutturale, perché quello che non è stato fatto fino ad oggi, cioè un'analisi strutturale del problema per determinarne appunto la soluzione, come dire, non può richiedere un mese o sei mesi, perché il problema appunto si è incancredito in maniera talmente significativa che quindi abbiamo bisogno di studiare molto bene la questione proprio per fare un giro di boa, come dire, veramente significativo al pari degli anni 90. Senta, volevo chiederle anche questo, ma è cambiata la tipologia delle persone che richiedono l'affitto nelle case popolari, cioè per capire anche se è cambiata appunto le fasce d'età, la situazione sociale, al di là dell'aspetto degli immigrati o comunque degli extramunitari di cui abbiamo già parlato. Sì, è cambiata perché è cambiata la società italiana, noi oggi abbiamo le sacche dei più poveri o di quelli più in difficoltà, diciamo, che sono di vario tipo, noi abbiamo ovviamente la categoria degli anziani, che è entrata in una difficoltà legata a un sistema di vita che gli è cambiato intorno rispetto alle loro abitudini e che quindi trovano oggi, come dire, rispetto a una gestione della pensione, delle difficoltà. Abbiamo i padri separati e divorziati che, come dire, vanno in difficoltà perché ovviamente se rispettano le regole, come io mi auguro, devono spesso pagare cifre importanti per il mantenimento, diciamo, della moglie e dei figli. Sono anche giovani? Ci sono molti giovani perché i giovani sostanzialmente, come dire, hanno una difficoltà a trovare posto di lavoro e quindi noi ci ritroviamo coppie di giovani che hanno scelto coraggiosamente comunque di costituire un nucleo familiare o comunque di fare una scelta di vita, diciamo, anche facendo figli magari, però, come dire, l'assenza di lavoro o la presenza di un lavoro precario produce di conseguenza, come riflesso immediato, quello, diciamo, di una difficoltà. È chiaro che la risposta a tutta questa povertà, diciamo, anche molto variegata, non sta soltanto in una risposta infrastrutturale. È chiaro che il tema della casa si inserisce in un quadro di welfare integrato, come si usa a dire oggi, perché ovviamente ci possono essere famiglie in cui magari vi è un handicap per i figli, in cui se io risolvo, intervenendo in maniera significativa e pesante su quell'aspetto, poi di conseguenza in maniera indiretta risolvo il problema del disagio abitativo perché si librano risorse economiche nel nucleo familiare che possono essere utilizzate. Quindi è chiaro che la risposta non è soltanto infrastrutturale, perché altrimenti dovrebbe costruire un milione e mezzo di appartamenti in più, cosa impensabile. Però, a mio avviso, in una logica di welfare integrato, il milione e mezzo e passa di nuclei familiari in difficoltà abitativa può essere gestito magari con 300 mila appartamenti in più da costruire rispetto ai milioni esistenti. Naturalmente questo poi è un tema, bisogna capirlo nel profondo, anche connesso strettamente a quello che sono i dati demografici che sono usciti qualche giorno fa, perché senza la casa è difficile anche poter progettare una famiglia. Lei diceva coraggiosamente i giovani vogliono fare di figli e poi magari si rivolgono alle case popolari perché ci vuole coraggio effettivamente per una cosa del genere. Si capisce, 193 mila bambini nati in meno nel 2015 rispetto alla media, il saldo tra morti e nascite, meno 193 mila, si capisce bene che questo problema si riflette, del welfare integrato si riflette sulla popolazione. Siamo in chiusura, ma volevo solo chiederle una cosa. Se Firenze, devo chiedere a me il presidente di casa Firenze in questo senso, qual è la situazione, il tenore degli inquilini delle case popolari a Firenze? Qual è anche il grado di, insomma, come si può dire, ci sono troppi furbetti, troppo pochi? Qual è la situazione più o meno nel comune di Firenze? Per quanto riguarda il lodo di Fiorentino, che è Firenze, ma anche tutti i comuni dell'area metropolitana di Fiorentina, il quadro, diciamo, è confortante, nel senso che noi abbiamo un sistema che è messo in piedi dall'azienda, casa SPA, insieme ai comuni, che funziona complessivamente. Noi abbiamo, come dire, 73 alloggi su 14 mila appartamenti occupati abusivamente, quando la media nazionale è di circa il 5%, che è comunque bassa, perché molti pensano che nelle case popolari ci siano moltissime occupazioni abusive, in realtà il 5% del milione di case popolari è occupato abusivamente. A Firenze ne abbiamo 73 su 14 mila, siamo allo 0, siamo sotto il fisiologico per quanto riguarda questo aspetto. Per quanto riguarda la morosità, siamo a una morosità sui canoni che è inferiore al 5%, siamo intorno al 4% di morosità sui canoni, sia sull'anno che consolidata sui 10 anni, mentre sulle morosità per quanto riguarda le spese condominali, lì la cifra, come dicevo prima, è un po' più alta. Questo vuol dire che il sistema regge, che il sistema funziona e per quanto riguarda anche i controlli, noi facciamo controlli ogni due anni incrociando i dati che sono depositati presso di noi e comuni dagli inquilini con quelli depositati all'Agenzia delle Entrate. Incrociamo i dati e consideriamo che noi abbiamo un reddito medio in case popolari di circa 130 euro per nucleo, un reddito medio, poi c'è anche chi paga il canone minimo ovviamente, quando la media nazionale è sotto i 100 euro, quindi vuol dire che il nostro sistema non è che vuol dire che gli inquilini di case popolari fiorentine sono più ricchi rispetto alla media nazionale, non credo proprio, credo siano perfettamente in linea. Credo semplicemente che il sistema funzioni meglio, perché i controlli funzionano meglio e quindi vuol dire che i canoni sono più corretti rispetto al reddito reale di singolo nucleo e quindi di conseguenza se faccio un ragionamento di media il dato che emerge è questo. Possiamo dire che Firenze è un esempio virtuoso, via, nella situazione del Stato nazionale. Va bene, allora ci fermiamo adesso, anche se di argomenti ce ne sarebbero tanti, ma prendiamo spunto anche per parlare una nuova volta, magari rinvitiamo Luca Talluri, intanto grazie oggi per essere stato con noi, per averci raccontato quello che è un po' il sistema delle case popolari in Toscana, Firenze, ma anche in tutto il Paese, qualcosa su cui bisogna evidentemente concentrarci anche velocemente. Allora, grazie a voi per averci anche seguito da casa, Telegram termina qui, torniamo però domani. Una buona serata a tutti. Allora, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.